Appuntamento culturale alla libreria Mondadori di Caltagirone dove è stato presentato il libro dal titolo La straordinaria forza della verità, il testo prettamente autobiografico ispirato a un percorso spirituale che vede il protagonista interrogarsi sulla propria fede, Santi Sfragano l'autrice del libro. Invito a leggere questo libro in quanto potrebbe rispondere a delle domande che molti di noi oggi ci poniamo, come ho detto precedentemente, il senso dell'esistenza del nostro libere, del perché il male, perché questi scontri che esistono fra di noi, quindi è un libro che veramente riesce a dare delle risposte a delle persone che magari le hanno cercato ma che ancora non le hanno provate. Alla presentazione del libro sono intervenute Cinzia Caruso e Laura Cincotta, rispettivamente insegnante di religioni ostetriche e ginecologa, che hanno contribuito ad animare la conversazione culturale. Conclude a Melissa Scollo della libreria Mondadori. Sì, ancora una volta ospitiamo un autore, in questo caso un'autrice locale, Santi Sfragano, con La straordinaria forza della verità. Un libro diverso da tutti gli altri, un romanzo diverso. Questa volta ci siamo sentiti di ospitare un'autrice che tratta un argomento per qualcuno anche un po' delicato e di grande attualità, quello del rapporto con la fede, della crescita anche, dell'avvicinarsi alla fede, non necessariamente per un fatto tragico della vita che spesso fa scattare in molti di noi un avvicinamento alla fede, un avvicinamento a Dio, ma una storia di vita quotidiana di Vangelo e non solo di attualità come chi avrà modo di leggere il libro potrà vedere. Ripeto ancora una volta, la Mondadori dà spazio agli autori locali e dà spazio a chiunque volesse ovviamente presentare il proprio libro, quindi fatevi avanti se avete voglia di presentare il vostro libro, avete già pubblicato il vostro libro, lo valuteremo e decideremo insieme se fare una presentazione. un po' personale, quando le ho chiesto come mai questo...